Dulce de Lecce, latte condensato caramellato. Nella tradizione viene preparato con cotture molto lunghe, da 6 a 12 ore. Con il nuovo sistema innovativo RoboCubo riusciamo ad ottenere un dulce de Lecce in meno di 30 minuti. Gli ingredienti, latte, zucchero, bicarbonato di sodio. Sapete perché mettiamo il bicarbonato di sodio? Perché serve per accelerare la cosiddetta reazione di Mylar. Dove insieme al calore e le proteine danno la colorazione del prodotto finale. Qualsiasi operatore è capace di replicare lo stesso prodotto. Grazie al software integrato, uno dei tanti utilizzi del dulce de Lecce è come un cuore liquido per un dessert. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.